Per conoscere l'andamento del mercato immobiliare piacentino, una spia importante sono le vendite esecutive curate dai notai associati, Presidente Amedeo Fantigrossi, che 2018 è stato. È stato un anno direi decisamente positivo, perché nonostante la situazione abbastanza stagnante del mercato, nell'ambito delle aste Nave e Notai Associati ha realizzato 374 vendite, su un totale di circa 1200 lotti in vendita. Un dato positivo e importante è relativo sia all'importo del fatturato del Tribunale, che in questo caso assomma a parecchie decine di milioni di Euro, ma soprattutto al fatto che, contrariamente al passato, la maggior parte, un buon terzo degli immobili sono stati venduti di prima battuta, cioè alla prima asta, che significa che mentre negli anni passati alle aste si avvicinavano soprattutto gli speculatori per cui aspettavano che l'immobile andasse una prima, seconda, terza battuta per ribassare il prezzo, oggi vengono persone normali che cercano sì un buon affare, ma che sono interessati all'acquisto. Possiamo ricordare il meccanismo delle vendite giudiziarie, perché ricordiamo che il beneficio poi è anche per la collettività dei soldi che vengono ricavati. Il vantaggio fondamentale è intanto di sbloccare degli immobili che sono fermi magari da uno o due anni e perché le procedure esecutive comunque comportano in determinati tempi e quindi rimettere sul mercato nel circolo questi immobili. Stiamo parlando a Piacenza a oggi, solo per quanto riguarda i notari associati, quindi procedure esecutive normali, di circa 1.100 immobili che ritorno quindi e sempre più velocemente sul mercato. In più il realizzo consente di sanare posizioni debitorie in tutto o in parte che magari negli anni si sono sovrapposte e che creano disagio ovviamente al circolo virtuoso dell'economia. Le banche recuperano i loro crediti, ma anche i privati, i condomini che a volte non riescono a riscuotere i contributi dai proprietari, in questo modo ritornano tra virgolette in bonus, recuperano tutto a parte del loro, quindi sicuramente è un fatto positivo. Un altro fatto positivo e un indice interessante è che l'anno scorso appunto avendo venduto 370 immobili, sono più quelli venduti di quelli nuovi messi all'asta, per cui vuol dire che lo stock arretrato si sta manovendo e anche il Tribunale si sta alleggerendo un po' di pratiche che a volte contavano anni e anni di sofferenze. Citavo prima qualche esempio, qual è la tipologia di immobile che finisce all'asta e per quali motivi ci finisce? Tipologie di vario genere, mediamente e la maggior parte sicuramente sono la prima casa, in cui questo è stato accompagnato da mutui che poi i soggetti non sono riusciti a onorare, però ci sono capannoni, ci sono terreni agricoli, ci sono immobili che vengono da procedure di divisione, cause di divisione, non divisibili facilmente per cui per risolvere il problema vengono messe all'asta per l'intero, quindi c'è un po' di tutte le tipologie. La maggior parte, ripeto, sono abitazioni in città, in provincia e di varie tipologie, cose importanti, cose meno importanti, cose economiche e quindi molto appetibili anche da soggetti che non hanno grosse disponibilità. Vi arrivano anche immobili che ad esempio sono figli, per così dire, di fallimenti. Dal vostro osservatorio è un po' rallentata questa crisi e quindi ci sono anche meno fallimenti che portano poi a dover vendere gli immobili per sistemare la situazione? Direi che al momento siamo in una fase di stabilità, dopo il picco degli anni passati adesso c'è un andamento abbastanza costante, non sono ancora diminuiti però devo dire a oggi. Questo è il bilancio delle vendite giudiziarie che sostanzialmente derivano dai provvedimenti del Tribunale, da qualche mese però si è affacciata un'altra possibilità che è la vendita all'asta tra privati, di che cosa si tratta e che ruolo può avere il notaio? L'asta tra privati è un sistema contrattuale relativamente nuovo, nel senso che l'asta è normata solo per quanto riguarda le aste pubbliche che sono quelle esecutive o le aste pubbliche amministrazione. Nell'ambito dei trattativi privati non c'è un articolo del codice civile che dica si può fare così, per cui si è sempre andati molto cauti in questo campo. C'è stato un recente studio invece del Consiglio nazionale notariato che ha sviscerato la questione e ha realizzato una struttura operativa che consente di concludere un contratto di componenti immobili attraverso questa procedura dell'asta privata che si comuni di vari passaggi e il nucleo, il fulcro è la scelta del contraente attraverso la procedura dell'asta competitiva. I vantaggi sono chiaramente notevoli, nel senso che mentre normalmente chi pone in vendita l'immobile predetermina un prezzo e poi quando trova il primo acquirente chiude l'affare, il primo cliente può essere trovato o tramite un'agenzia o tramite amici o tramite conoscenze, però il suo ambito di ricerca è comunque necessariamente ristretto. Con l'asta privata si ricerca nel più vasto campo possibile, tendenzialmente si raggiungono tutti i potenziali interessati all'acquisto, per cui l'affare che si realizzerà sa il migliore possibile per quelli immobili in quel determinato momento. Che procedura va seguita? Naturalmente bisognerà rivolgersi a un notaio per poter mettere all'asta tra privati il proprio appartamento o la propria abitazione. Allora, uno dei motivi per cui fino ad ora l'asta immobiliare non aveva trovato impiego è proprio perché non si era focalizzata la funzione notarile in questo ambito. che direi che è essenziale, nel senso che il notario è il soggetto terzo imparziale garante che prima di tutto verifica che l'immobile nel suo all'asta sia effettivamente di chi lo vuole vendere, che non ci siano agroami pregiudizievoli, che non ci siano sopprese di e in questo caso predispone una relazione ipocatastale, raccoglie tramite tecnici tutti i dati dell'immobile relativamente al concesso all'inizio, all'istituzione urbanistica, all'istituzione edilizia, gli impianti, predispone quello che chiamiamo il libretto col bollino blu per quanto riguarda il fabbricato, in modo che nel momento in cui viene offerto al pubblico si sappia esattamente di che oggetto si tratti e si dia a tutte le garanzie che quello sia un oggetto vendibile a posto senza nessun problema nascosto. E quindi nel momento in cui qualcuno conclude l'acquisto non si trova poi di… Non c'è nessun tipo di sorpresa. L'ulteriore funzione di garanzia è che l'offerta al pubblico fatta dal proprietario viene fatta tramite atto notarile, per cui anche qui c'è una garanzia di riconoscimento del soggetto, della serietà dell'impegno, perché non può essere evocato se non alle condizioni previste nel contatto. L'ulteriore garanzia per l'acquirente è che le somme che vengono versate, sia a titolo di produzione, sia a titolo di acconto, vengono trattenute da notario fino a conclusione dell'intero processo, per cui fino a che non c'è il rogito definitivo, l'acquirente, il potenziale acquirente sa che il suo denaro è al sicuro e questi quindi sono i vari vantaggi. Naturalmente non vengono escluse le figure dei mediatori immobiliari da questo processo. Assolutamente no, perché il mediatore immobiliare ha la funzione fondamentale di trovare l'oggetto migliore per il suo cliente o di vendere al meglio per il suo cliente a seconda sette atti per uno per l'altro. Nel caso che rappresenti il venditore consigliandogli questo tipo di procedura chiaramente gli consiglia uno strumento che possa servire a realizzare al meglio. Se accompagna un provabile, un possibile acquirente e lui indirizzarlo verso la scelta migliore sia come tipologia di immobile, sia come prezzo, come tutte le caratteristiche, in buona sostanza il mediatore deve essere lo psicologo che trova il prodotto migliore per quel suo cliente e quindi è una funzione ben importante anche in questo campo. E banalmente dalle esperienze che sono iniziate ad arrivare un po' in giro per l'Italia il valore degli immobili probabilmente poi venduti è superiore a quello che si potesse aspettare proprio perché si scatena in qualche modo un'asta a rialzo. Allora diciamo che ritornando ai dati di Piacenza, per non andare tanto lontano, l'anno scorso quindi 2018, a parte il fatto che come dicevo prima più del 30% di immobili sono stati venduti in prima battuta, poi più del 30% hanno realizzato un prezzo superiore al prezzo base d'asta. Quindi questo significa che il meccanismo funziona, quindi l'obiettivo di trovare il migliore cliente viene facilmente raggiunto. Naturalmente è un'opportunità anche per i notari stessi, non è un esercizio molto diffuso questo dell'asta tra privati, comincia ad arrivare anche a Piacenza. Diciamo che non è assolutamente diffuso per questa prudenza tradizionale del centro notarile che di fronte a situazioni non nuovate procede con i piedi di piombo. Bisogna anche però ricordare che il nostro Codice Civile con l'articolo 1332 consente di stipulare qualunque tipo di contratto che persegue scopi legittimi, per cui la creatività del mercato è tale che si trovano sempre nuove formule che siano più rispondenti alle varie esigenze che si presentano e non possiamo dimenticare che in altri ambiti, ad esempio in altre nazioni come la Francia, l'asta notarile esiste da decenni con notevole successo, devo dire. Sicuramente è un ambito di lavoro in più per i notari, ma è un lavoro che può portare un ottimo servizio con l'attività.